Salve questo è l'album di Filippo ed ha la sua scatola però diciamo che è venuto con un'altra carta perché la cliente me l'ha chiesto in un secondo tempo e io avevo finito la carta che avevo fatto l'album. Questo è l'album, ho messo i fiocchetti, questo è una girandola che ho fatto io con il peso sotto. Questa è una tag. La cliente ha deciso di mettere pochi abbellimenti quindi le pagine sono tutte uguali. Questa è una busta che ho fatto io con l'attrezzo per fare le buste. Poi magari vi farò anche un tutorial se volete. Vedete non sono molto piene come pagine. Qui ho messo una tag, mi porta tag con la sua tag da mettere le foto. Qui ho fatto un'altra porta tag oppure ci si può mettere la foto e qui ho messo il nome della nonna che l'ha regalato a Filippo. Qui ho scritto il nome e questo l'ho tagliato con la silhouette cameo. Poi la cliente non ha avuto neanche gli strass quindi è proprio diciamo base base e qui ho messo una taschina con un fiocchetto e questo è il retro. Vedete e questa è la sua scatola. Una volta messa la scatola rimane in piedi. Spero che vi sia piaciuto ciao alla prossima